E' possibile rendere completamente invisibile una qualsiasi cartella di Windows? La risposta è ovviamente sì! E la cosa bella è che non dovete scaricare niente, nessun programma, nessun app, nessuna estensione, tutto subito pronto alla portata di chiunque in pochissimi clic. Talmente bello che non so come mai nessuno conosce questo trucco. Se volete scoprire come fare, beh, è molto semplice. Basta godersi la mia sigla! Benvenuti dal vostro Anara Sensei! Oggi in modalità Super Mega Ninja. Infatti vi insegnerò un trucchetto veramente molto figo che potete fare in qualsiasi computer, ma veramente qualsiasi computer, in pochi clic. La cosa bella è che penso esista tipo da Windows XP in poi, e quindi esiste da tantissimi anni e non c'è nessuno che lo utilizzi. La cosa bella è che potete usarlo non solo per rendere invisibili dei file, delle cartelle, roba segreta o roba così, insomma, ma anche dare un tocco di pulizia al vostro desktop. Magari sempre pieno di icone e di roba robacce in genere. Perciò può essere utile per mille modi diversi. Ovviamente, mi raccomando, iscrivetevi al mio canale, buttate un bel like, ed è tutta roba gratis che potete anche togliere in qualsiasi momento. Perciò perché non farlo? Vi sto per insegnare una chicca veramente potente, quindi buttate quel like. A breve arriveranno altri video anche su criptare delle cartelle e dei programmi gratuiti. Sì, grazie per avermi detto che mi sveglio tra 9 ore. E anche se non è vero, me ne sveglio tra 6. E detto questo, procediamo con il nostro tutorial. Allora, la prima cosa da fare è ovviamente avere una cartella da nascondere. Perciò me ne creo una qui sopra Batman, vado su Nuovo, Cartella. Adesso, una chicca veramente scema è questa. Far diventare invisibile la cartella. Tasto destro, Proprietà. A questo punto ci basterà selezionare Personalizza. Ora, esattamente come ho fatto il tutorial su come cambiare l'aspetto della cartella, basterà andare su Cambia icona e selezionare una di queste icone. E voi mi direte, ok, ma sono tutte quante icone colorate che non mi permettono di nascondere. E no, perché qui in mezzo, non so se vi siete accorti, c'è un buco. E non è un vero e proprio buco, ma sono delle icone invisibili. E potete selezionare una qualsiasi di queste. Selezionata questa, ad esempio, vado su OK e appena vado su Applica, Sbam, la mia cartella diventa invisibile. Non so se avete notato, ma io dove la metto diventa invisibile. Chiaramente, se ci vado sopra col mouse, viene fuori il quadratino. Però di base, lei non si vede. A questo punto, la parte più gustosa è interessante. Ovvero, c'è una scritta che si vede. Quindi, se io me la metto qua in cima, la nuova cartella la vedo, ok? Come si fa a farla sparire? Questo è un passaggio ancora più semplice. Perché ci basterà andare sopra, tasto destro, e rinomina. È possibile rinominarla dopo, oppure anche crearne una e già fare questo trucco. Cancelliamo e andiamo a scrivere 0, 1, 6, 0. Questi 4 numeri qua, mentre teniamo premuto il tasto Alt della nostra tastiera. Quindi, teniamo il pulsante Alt, che troviamo a sinistra, di solito. Non Alt, gr, ma Alt e basta. E clicchiamo da tastierino numerico, ad esempio, 0, 1, 6, 0. A questo punto si può mollare Alt e dare invio. E, magicamente, la cartella sparisce. Come potete vedere, non c'è più la scritta, però la cartella è qui. E se io la vado ad aprire, lei esiste. Ok? Perciò abbiamo creato una cosa invisibile. Ok? Io apro e qui c'è la mia cartella. La posso spostare dove voglio, ed è letteralmente invisibile. L'unica accortezza è chiaramente non perderla. Quindi la potete mettere o in uno dei lati, degli angoli, che vi fa più comodo. Magari non qua in alto a destra, dove fate sempre X, per chiudere le pagine, o in basso, o in alto. Insomma, nei quattro angoli. Ma lasciarla leggermente spostata. Magari, non so, qua. Oppure, vicino a una parte del vostro schermo. Quindi, se avete il desktop, come nel mio caso, o Batman, posso mettere la cartella sopra a un occhio, sul petto. Oppure anche sopra la mia scritta, insomma, dove preferite. Ora, le domande più classiche. Se avete un portatile e non riuscite a tenere premuto Alt e ad utilizzare il tastierino numerico contemporaneamente, ci sono alcuni portatili in cui dovete per forza premere prima un tasto per fare la seconda funzione. Quindi, non mitragliatemi di domande del tipo, io ho il portatile e non mi funziona. Dovete abilitare l'alt, altrimenti utilizzare la buona vecchia tastiera su schermo. Ok? Quindi, una volta presa la tastiera su schermo, dovete abilitare l'alt, e come vedete rimane inserito, e dopo premere 0, 1, 6 e 0. Lascio comunque tutto in descrizione. Solo così avete la possibilità di farlo, altrimenti non vi viene fuori. Altra domanda che sicuramente capiterà sotto i commenti sarà La mia cartella non diventa completamente trasparente, ma resta un quadratino nero. Questa cosa è successa anche a me, capita su un computer ogni 10, 100, ok? La sfiga c'è sempre. Capita quando i driver della scheda video di solito non sono aggiornati. Perciò vi basterà andare sul sito ufficiale della vostra scheda video, dei driver, ad esempio, non so, Nvidia, JForce, Atiradeon, eccetera, eccetera, scaricare l'ultimo pacchettino e, dopo averlo installato, riavviare anche più di una volta. Può essere necessario veramente farlo due o tre volte prima che succeda la magia, oppure un bel aggiornamento di Windows non fa mai male. Per farvi vedere di che cosa sto parlando e i possibili utilizzi, mi tolgo dalla macchina virtuale e vado nel mio desktop. Bello che mai! E forse un po' più luminoso perché uso Lightbulb. Allora, tasto destro, creo una nuova cartella e qui dentro creo una nuova cartella a sua volta e la visualizzo grande. Eccola qua. Sul desktop di solito diventa trasparente, mentre all'interno di altre cartelle, se vado su Personalizza, cambia icona e seleziono quella trasparente, sbam, diventa nera. Ok? Vi faccio anche lo zoom. La nuova cartella è nera. Questo può succedere anche, appunto, qui. E a questo punto non sarebbe più utile, perché non è più invisibile. Perciò, come fare a utilizzarla, nonostante questa sfiga? In realtà, i trucchi sono tanti. Se io avessi una cartella nera, la potrei piazzare, logicamente, qui e sfruttare il mio Batman nero. Perciò, potete andare a sfruttare il vostro desktop o avere l'occasione buona per cambiarlo e trovare una icona adatta o, eventualmente, scaricare un'icona del colore o della tipologia corretta in base al vostro sfondo. Questo è un piccolo suggerimento e, infatti, non so se voi vi siete mai accorti, ma in questo mio desktop c'è un'icona invisibile, tra parentesi, che non è invisibile. Infatti, vi do 5 secondi per trovarla e dopo vediamo se eravate attenti. Pronti? 5, 4, 3, 2, 1, 0. La mia icona semi-invisibile è sotto l'ascella di Batman. Eccola qui. Ok? È qui in bella vista. Eppure, il colore sfugge. In base al mio desktop è un'icona che frega. Che icona è? Non è invisibile, ma è una freccia grigia che in realtà è quasi bianca perché si mimetizza molto, molto bene. All'interno tengo una marea di cose che servono per fare i video di YouTube. Butto dentro tutti gli esperimenti, tutta la roba e ce l'ho qua, bella in vista, sempre a portata di mano. Quindi, mi basterà premere la proprietà personalizzarla con un'icona che mi sta bene. Ok? Una delle frecce ad esempio che è qua in fondo. Se non mi ricordo male, eccola qua. Io ho questa icona adesso. Vado su, ok. Applica. e la mia cartella eccola qua la posso mimetizzare ad esempio, non so, penso vediamo un po' qua no, qua no, qua no non ho tanti posti adesso è finita dentro le mie cartelle comunque la posso mimetizzare ad esempio qua si vede pochissimo, ok? È veramente tanto nascosta se uno non ci fa caso cioè è impossibile beccarla perciò anche questo è un altro trucco ci sarebbe un secondo sistema veramente molto figo ma ve lo lascio per il prossimo video non voglio appesantirvi più di tanto e uscirà anche un altro video su dei programmi per criptare le cartelle sotto password e quindi renderle inaccessibili anche se vengono scoperte una sorta di bitlocker però utilizzando dei prodotti dei software di terze parti totalmente gratuiti detto questo se il video è stato di vostro aiuto e di gradimento buttate il like perché veramente serve per mandare sul canale iscrivetevi a questo bellissimo canale pieno di tutorial interessanti se avete dubbi domande o altro resto a disposizione anche per spunti per eventuali nuovi video e vi auguro una piacevole continuazione bye bye